Trasporto pubblico, oggi sciopero regionale per i dipendenti della tua, stensione dal lavoro per quattro ore in concomitanza dei lavoratori della Filt CGL e di Orsa TPL. Entrambi gli scioperi, fanno sapere le due organizzazioni sindacali, sono stati partecipati ed entrambi i sindacati puntano l'attenzione anche e soprattutto alla salvaguardia degli utenti e ad alcune motivazioni. In modo particolare questo sciopero partecipato in Pescara Urbano ha avuto un'adesione di circa il 60% che rappresenta di gran lunga una percentuale superiore ai nostri iscritti. Le motivazioni principali sono da riportarle in modo particolare la mancanza di personale che ci genera diversi problemi soprattutto nella fruizione delle ferie. In altro particolare la mancanza di aver espletato un bando di concorso annunciato in più occasione del personale di manutenzione dove si fanno veramente ricorso a delle prestazioni straordinarie anche per questi lavoratori per poter mettere in servizio alcuni mezzi. E proprio la carenza dei mezzi risulta essere anche un grave problema che questa azienda sta affrontando un pezzettino alla volta ma che al momento non ha ancora trovato la totale risoluzione. Le motivazioni alla base di questa protesta dei lavoratori sono ovviamente la gestione del personale, l'organizzazione del lavoro in questa azienda, le mancate applicazioni dei contratti sia nazionali che aziendali, la carenza nelle infrastrutture, l'insicurezza dei mezzi e chi più ne ha ne metta. Quindi ovviamente tutto questo va a incidere anche nel servizio offerto all'utenza abruzzese che si è vista togliere un servizio pubblico che trasportava soprattutto le zone interne verso la capitale dove per motivi di studio e di lavoro centinaia di migliaia di utenti abruzzesi si regavano ogni giorno e che oggi invece sono costretti ad affidarsi a privati. Abbiamo già dato mandato ai nostri studi legali per presentare alcune denunce per quanto riguarda l'ispettorato del lavoro. Se non dovesse bastare andremo d'ufficio alla Procura della Repubblica. Abbiamo fatto il possibile, abbiamo segnalato in tre anni centinaia di lettere a cui l'azienda non ha mai risposto.